Oggi vi mostro come preparare questo ciambellone vegano alla marmellata che non affonda. In una ciotola capiente setacciare 400 g di farina, io metà integrale, metà 00, insieme a 16 g di lievito per dolci. Aggiungere 120 g di zucchero e mescolare con una frusta. Aggiungere anche 100 g di olio, io ho usato quello di mais, e 350 g d'acqua a temperatura ambiente. Aggiungere anche qualche goccia d'essenza, oppure la buccia di mezzo limone grattugiata, mescolare con la frusta fino ad avere un composto liscio e omogeneo. Spostare il composto ottenuto nello stampo a ciambellone da 26 cm precedentemente oliato e infarinato e livellare la superficie. Mettere sulla superficie piccoli cucchiaini, 200 g circa di marmellata o confettura a piacere. Infornare a 160 gradi per il riscaldato statico per 55 minuti circa, fare prova a stecchino e far raffreddare.